Che bello, che bello Ti giuro Quante volte abbiamo detto che vorremmo fare solo sta modalità che è divertente Mamma mia Ci hanno ascoltato Finalmente Apple Kies è gratis Era gratis Era Wow ma costa 15 euro Però è uno di quei giochi che secondo me Serve il plus È troppo di ottimo Secondo me costa Terza season Potrebbe riportare qualche persona Sì molto probabilmente Però aspetta devo cambiare Sto cercando Siamo in live Sto cercando il Certo Certo Qualche seconda A caricarmi Cioè A farmi uscire su YouTube Oh Anna Ehi Anna Non vedo il mio video Naturalmente Naturalmente non si bestemmia perché siamo in live No si può Si può Tu forse non hai visto ciò che hanno tirato fuori Lady, Maurizio e tutti gli altri In questi giorni In questi giorni Ok Un attimo che mi faccio l'omino Giallù che facciamo Facciamo vestiti a tema Eh dipende che cosa Bibite C'hai la lattina Non c'ho il coso di sotto Cazzo Cazzo Nessuna delle due lattine Io ce le ho tutte due No se devo giocare a calcio Metto una skinciotta Ok sono pronto Ma come vuoi dire Io non da tipo perché a me non mi segnala che sta online Allora aspetta Non mi segnala che sta online Forse perché non mi hai ancora accettato l'amicizia sul PSM Perché siamo amici di Epic Siamo amici di Epic Ci dicono che vogliono Gianluca Nudo Ce lo dice il nostro amico Tonio T90 Se puoi fare un piacere Puoi inviarmi Tu la richiesta su PS4 Già mandato Sei marrone Sì Non c'ho marrone Dai io metti pronto Che giochiamo dai Non c'ho quel marrone Basta Basta che giochiamo Tanto qui i colori ce li cambia Per il fatto delle squadre Andiamo Nitto pronto Dai che sta la coppa Aspetta 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 Dov'è? 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 Oh dov'è? Oh ehi hanno Che ci stanno guardando Oh no Scusa ho comprato Metti pronto Metti pronto Metti pronto Dopo non mi dite niente Dai siamo simili Tranne gli occhi Bravo Tanto c'è lì Le stelle Ma al tanto Mo le farmiamo Tre partite a pallone Finale Ti porti a casa La vittoria Dai dai Ma Giallu Tu non hai idea Se hai 30 contro 30 Che vuol dire Tu non hai propria idea E siamo pure 4 spettatori in live Wow Non sono stato lì Dai 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 Perché non parte Perché non parte Perché non parte Perché non parte Ok ok Sta partendo Il Maglialu Non so il Maglialu Quello bastard Giallu Dividiamoci i compiti Attacco Difesa ASMR Scusa ho lasciato Le capelli Giallu Sì è drogato Secondo me Voglio fare un video ASMR No Che c'è Dai Dai Tu fine Cioè che parli Vicino al microfono Che fai Ehi Ciao Mo non arrivi Siamo a 40 giocatori E via No mi dite niente Crash Per 10 minuti Che pubblico su TikTok E torno Quindi Invitatemi Certo Allora Ok stiamo partendo Oh Ma che è sta musica Unicco Oh we Ce l'abbiamo fatta A posto Ci siamo 46 Due persone Mancano A 46 O 48 Ehi A 46 Non siamo arrivati a 60 24 E 24 A posto Ce l'abbiamo fatta No Giallu È una Bolgia È divertente È meglio Di una partita A FIFA Ma Deo 24 A 24 Ma Giallu Rimani scioccato Perché Il campo È completamente Pieno Giallu Gli eserciti Non vado in difesa No Vabbè Sì anche Però dipende sempre Come stiamo messi Io cerco di fare Il Possibile Stai tu dietro A difendere Sì Ce la fai? Hai bisogno di una mano? No Non ce la faccio Sì Sì Il Romo Arriva Colca di testa Qua No 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 Che Sì Ti 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 ma perchè la renna mi aggrappa? si aggrappa a me la renna aspetta che sto al calcio di liceo non so non per fare 3 a 0 3 a 0 3 a 0 la prima partita che il fatto che ce l'avvolge riesce a fare fuco l'individuale ma quando inizia a spremarsi no 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 4 a 0 5 a 0 non 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 n non No dai, prendiamo con la balla. Non ce l'ho fatta! Hanno segnato di nuovo, non ci credo. Via. Raga, tutti insieme, perché altrimenti non ce lo facciamo. Non vedo, non vedo, non vedo. Dai che se segniamo vinciamo perché stiamo... Ma chi sei non ce l'ho? Ah, se... Non ce l'ho! Fa un culo, prendo la rincorsa per poi. Zalu, difendi, io sto attaccando. Vi resisterò. Oh no! Vi da colpa! Oh no! Oh no! Oh no! No no no! Oh 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 no! Dove non c'è il luco? Dove non c'è il luco? Dai sono sotto assedio! Oh! Comunque sta skin mi fa cagare perchè è troppo rotonda! Oh no! 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 My son... C'hanno fatto. No! No! C'hanno fużeun! Ci hanno fatto! Goah! C'ha questo! Il ca**no! Dovete trovare una skin alta A posto, sono pronto Metti pronto, Giallu, dai Dai, 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 veloce, 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 veloce Grazie 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 e uno ne manca lo vedono qua eh dai vedi se noi già eravamo in quattro già lui era più semplice annullo? no no aspetta aspetta intanto me lo trovano no ok ci siamo ok no 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 oh 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 è la prima partita la vinciamo quelle ne sono le altre aspettate che invito il mio frate bello raga po' il tempo che arrivò dico ah ora c'hai no hanno messo pure i martelli mi hanno romputo il cazzo 1 a 0 1 a 0 no 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 oh quel cazzo che non sta parlando oh ma perché lui si aggrappa si aggrappa quel rincolo non blocca dai dai andiamo ad attaccala adesso una 0 una volta si no no ci ha detto che hai aggiunto uno che deve entrare eh deve entrare deve entrare no 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 ma perché migrappa è sci ma è quello con la è quello con l'armatura si raga esco è un party ecco è arrivato giuseppe un party non sai che cos'è un party non sai che cos'è un party niente si parla com'è che cos'è si parla com'è che cos'è si parla eh siamo oggi graffati no ci hanno segnato no non passiamo l'altra no 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 dopo 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 ciao no 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 si mi piace mi piace mi piace mi piace non ti provo non ti provo non ti provo non ti provo non riusciamo a vincere tre partite non riusciamo a vincere incredibile facciamo cagare aspetta ricco muovetevi che mo loggo levate so giuco muovetevi muovetevi che mo loggo levate so giuco in italiano poi è tutto un dire vabbè ricco quel colombiano là aspetta una sua risposta comunque siamo in qua cioè ci stanno ci guardano più ci stanno guardando in qua qua il trogrico ok ci abbiamo fatto sta partendo ok dai 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 trogrico stupido ricco una merda ricca stupido devi spiegarmi come ho fatto io sbagliare vabbò ricco stupido ricco una merda oh cosa razzismo segnali carico ma che sta dentro è gialluca io mi dissocio no voglio vedere se mi risponde se mi sente si chi sente sta rispondendo chi ha risposto scusa razzismo dire segnali il canale segnalo 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 andata a cagare saldo tutti fondo una bolger Antonio quello che fa il pito più a lungo 30 secondi di pito oh una set ah sì ma è sponato ma c'è la palla dentro dove nella porta ah sì la palla che in tre a giro in merita tantissimo oh sto capendo raga no gialluca che sta lottando ho visto arrivare ho visto arrivare due palenze quando 4 a 1 se riesce a metterci ah non ci fa ah il colpo del wuster c'è stato di guarda la prima partita la vinciamo sempre di così tanto qui quando siamo meno prendiamo le sberre perché scoppiamo che ci capitano quelli della squadra avversaria che fanno cagare ma che fanno difendono il pallone quelli nostri gol 6 a 1 6 a 2 6 a 3 6 a 3 6 a 3 dai dai che tutti in blu stanno avanti 6 a 2 devastati 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 trogrico il migliore andatelo andatelo a seguire tutti su twitch instagram e facebook trogricos su facebook si chiama riccardo fagnani è l'eccellenza del gioco è il pro player del gioco mi ha risposto non ha scritto qualcosa no 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 oh dai però non sopra non scriverà zizio aia muoviti per pizzo di me si arriva al pallone arriva al pallone ci sono una è bloccato l'altro guarda guarda no 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 vabbè io uno su uno ho paro uno per l'altro ah forse abbiamo perso pure questa partita perchè è perché c'è una scorta di merda ah non si accende! uno del siuno! due a due! due a due! mi ritrovo sempre K.O. non so perchè la ributta avanti l'Hot Dog! vedi a che basta! sto guardando il tempismo dei salti no! no! non so dove andare, se adesso si vincere ok già ho capito, quando salto io non ho l'aria a scappare bene quelli là si non lo so, ho assurdo che ci stanno stiacciando no no, spazziamolo c'è uno ferma, no! no, quello! no! deficiente! no no, arriva un'altra! no no no! l'abbiamo fatto no, qui ce l'abbiamo fatta! non ci hanno eliminato! no! ci hanno eliminato! in che squadra stavi? no, non mi è uscita la X mi è uscita che mi aveva dato il... il tagantino vivola sei passato! no! oh! andiamo su... qual è Enrico che ci sta... che ci sta... però stasera come uso il piccione vaffanculo lo metto già adesso stasera uso il piccione e qui... ci sono i città... non? non? chiusa ecco gli qui